Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Vediamo veramente in una manciata di minuti come creare e far creare ai nostri alunni un semplice avatar personalizzato statico, cioè una immagine da salvare e riutilizzare tutte le volte che vogliamo. Sito di riferimento, occhio alla doppia A ripetuta, creaavatar.it, un sito web apribile con un qualsiasi browser, programma di navigazione da qualsiasi dispositivo. Vedrete che verremo accolti proprio da questo post, è una sorta di sito blog che però offre un unico servizio e che funziona bene. Quindi creaavatar con pochi clic in realtà è il messaggio corretto, perché noi abbiamo la scelta tra viso, occhi, capelli, vestiti e sfondo e mi soffermo proprio qui su questo dettaglio. Se vogliamo ottenere un avatar che sia con lo sfondo trasparente in formato PNG, dunque utilizzabile ovunque, in Powtoon come immagine personalizzata e trovate sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea anche un videocorso su Powtoon. Se lo vogliamo utilizzare in Canva, ne ho parlato in altro videocorso. Ecco, abbiamo la possibilità o di associare questo avatar a noi come docenti o di far creare agli alunni il loro avatar come alunni. Guardate, giusto poco fa ho terminato una lezione PON in didattica a distanza in DAD e lo abbiamo utilizzato in Scratch, ad esempio. Allora, vi dicevo, occhio alla voce sfondo di cliccare sul quadrato X di modo da avere la rimozione dello sfondo. Per il resto, viso, occhi e gli altri dettagli saranno nostra piacevole personalizzazione. Il reset, ovviamente, se non siamo contenti del risultato, ci riporta subito a questa pagina, cioè alla base. Quando è tempo di scaricare, andiamo a fare un clic su scarica e vi consiglio di scegliere il formato PNG 400x400, che è un formato di media grandezza e di buona qualità impiegabile poi in mille contesti. Vediamo che io con un clic vado a verificare poi dove lo voglio salvare. Ora qua sono un po' troppo scuretto, ecco però è la simulazione di un mio avatar, ammazza che barbone. Ricordiamoci che se dimentichiamo di dare il nome, lui chiamerà l'avatar myavatar.png. Questo vale anche su un dispositivo mobile. Io consiglio sempre di procedere da un normale personal computer con un browser a piacere, ma funziona anche appunto dai dispositivi mobili. Se non manteniamo il nome myavatar, andiamo ad indicare avatar di esempio. Nel mio caso, io ho scelto la cartellina dei download per accogliere questo salvataggio e vado a confermare l'operazione con un clic del tasto sinistro, mouse su salva. Ed ecco che ho a disposizione un mio avatar statico, trasparente e informato PNG per tutti gli utilizzi che didattica e fantasia ci possono suggerire. Un caro saluto con questa pillola che sarà utile ora per la conclusione dell'anno, ma anche per attività didattiche che proseguiremo in futuro. E sempre un caro saluto da Andrea Cartotto con l'appuntamento al prossimo videocorso.